Ieri giornata storica per Molfetta e non solo. Papa Francesco in Puglia sulle tracce di Don Tonino Bello in occasione del 25esimo anniversario della sua scomparsa e in una città, Molfetta, blindata, ma sicuramente in festa. Vediamo. Si è conclusa alle 13.30 la visita di Papa Francesco in terra di Puglia in occasione del 25esimo anniversario della morte di Don Tonino Bello. Nonostante il ritardo sulla tabella di marcia e cambiando il programma di ramato nei giorni precedenti il suo arrivo, il santo padre al termine della celebrazione della Santa Messa ha comunque voluto fare il giro con la sua papamobile per salutare i fedeli che lo hanno acclamato con un vero e proprio tifo da stadio. Ripartito alla volta di Roma, il popolo degli oltre 40.000 fedeli, per questioni di sicurezza, hanno potuto lasciare in maniera composta la piazza antistante il porto, tutti consapevoli di aver vissuto un giorno che rimarrà nella storia e non solo della città di Molfetta. La prima volta di un papa nella diocesi molfettese sulle tracce del servo di Dio, Don Tonino Bello. Una giornata speciale fuori dall'ordinario che ha fatto registrare il calore umano della gente arrivata per l'occasione a Molfetta da ogni parte d'Italia e il calore meteorologico facendo segnare temperature decisamente estive. Tanti sorrisi, tanta l'emozione vissuta dai fedeli di ogni età che hanno riempito la piazza fin dalle primissime ore del mattino e c'è chi, ha detto, non è riuscito neppure a dormire per l'emozione di questa giornata. A 24 ore da questa importante pagina di storia rimane il ricordo di una città vestita a festa con i colori del giallo e del bianco, una città pronta all'accoglienza ma anche blindatissima con un grande numero di forze dell'ordine messe in campo sia in divisa che in borghese per garantire massima sicurezza con le vetrine dei negozi che riportavano le frasi simbolo di Don Tonino Bello. Come accade poi dopo ogni festa, smontato il palco, tolte le transenne, i blocchi, ripulite le strade, delle piazze, Molfetta è una città pronta a ricominciare proseguendo il cammino nel segno di Papa Francesco e di Don Tonino Bello.